Due geometri prenderanno servizio al Palazzo San Francesco e si occuperanno fra le altre cose anche di ricostruzione. Finalmente si sbrocca la prima fase delle assunzioni, anche se c'è un altro filone che viaggia a rilento. Buone notizie per il concorso che prevede l'assunzione di due geometri. Il lungo iter è ormai addirittura d'arrivo. Sono 54 le persone che hanno passato la fase di preselezione in comune. Delle oltre 700 nomande arrivate al Palazzo San Francesco nei mesi scorsi per i nuovi posti vacanti, poco più di 50 hanno avuto accesso alla fase successiva dopo le prove che si sono tenute nella lavagna del liceo scientifico. Sono tre i concorsi per l'assunzione di altrettante figure a tempo determinato che serviranno a sbloccare lo stallo degli uffici comunali. Per il concorso riservato a due istruttori tecnici geometri avevano fatto domande 95 ma solo in 35 hanno affrontato la prova e in 15 hanno ottenuto l'accesso alla fase 2 che ha visto l'esame dei titoli in possesso ai candidati, il colloquio orale. Solo due di loro avranno l'opportunità di entrare nella macchina amministrativa di Palazzo San Francesco. Restano lunghi i tempi per il concorso bandilo dal Comune che prevede l'assunzione di 5 agenti di Polizia Locale con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di tre mesi. L'avviso era atteso per lo scorso 10 maggio ma la ricomposizione della Commissione ha fatto slittare tutto. Si sta procedendo a ricomporre la Commissione dal momento che due componenti, tra cui il Presidente, avrebbero rinunciato a farne parte. La nomina di altri elementi ripristino della composizione della stessa Commissione è un passaggio necessario prima di individuare la dara di preselezione del concorso. Per cinque posti da gente di Polizia Locale hanno fatto la domanda in 422 che restano con il fiato sospeso. Si allungono i tempi quindi per completare il piano assunzione di Palazzo San Francesco mentre per gli altri concorsi le procedure sono in dirittura d'arrivo.